Io raccolgo le bacche No, è mia, è mia, papà Ma non l'ho presa io Faccia poco la noiosa lei Non incominci, se no devo già mettere in castigo Papà Cosa è successo? Una sorpresa per te La sorpresa Cosa ha trovato lei? Mi scusi Guarda, guarda cosa ti regalo Oh, ma la ringrazio E questa è la cacca Ha fatto un fumo? No, guarda Un pepittrello, com'è che ci chiamava Ciuppa Ciuppa, ciuppa Ciuppa Allora Ti piace il mio regalo, papà? Veramente carino, però devo togliere l'acqua Perché mi dava facestiglio Mi devo piacere Colpa tua se piove Se tu cattiri l'acqua Ma cosa vuol dire? Fece truzzo alla ragazza truzza E assenca la ragazza pioviosa Ok Comunque Papà Dica Io sono un po' stanca Dov'è la nostra casina? Perché lei dorme la notte Ma ascolti, guardi Perché a lei è vero Non gliel'ho fatta ancora vedere Ma io penso C'era una piantina Dove sei? Eh, non lo so Eh, si perde sempre Negli anforatti Dei boschi È troppo grande questa foresta per me Ma grande cosa? Vieni, vieni Vieni qua Vieni qui, vieni qui Ok Mi hai fatto una sorpresa Copri gli occhi Pronta? Uno Due Tre Posso apri gli occhi? Ah Eh, perché lei sta qui A girarci i pollici Ma io lavoro, eh Cioè, mi hai detto, eh Tutto Guarda Quanta legna ho dovuto usare Tutta legna Che bella È la nostra casetta? Eh, per forza E c'è anche La nostra Eh? Non c'è scritto che è nostra Potremmo un cartello qui davanti Scritto Caja Di Ajenka Devis E della mamma No, Devis Tu c'è papà bel Oh Com'è noiosa Buonasera a tutti E benvenuti Papà, guarda Che cosa è dopo il saluto Vieni Vieni Ma ha fatto paura Non so se è chiaro la cosa Che mi ha Fatto fare un sobbaltino Che leggendario Che leggendario È un mega blastoic Che leggendario Che leggendario Ma È roccia È shiny È un bosta È tutta bene Non affrontare Perché è roccia Ma cosa vuol dire? È anche verde Ma lo so È un cannone grosso grosso Io sono imbecille È un cannone grosso grosso E si vede con drogato Comunque Dicevamo Buonasera a tutti E io ricado nell'acqua E benvenuti Ben tornati Il nuovissimo episodio della mini pixelmon Siamo tornati Abbiamo visto che nel primo episodio Vi è piaciuta davvero tanto la sua voce Come Non è la mia voce, è la piccola genchina Vi è piaciuta la mini genca Vi è piaciuta, allora siamo tornati qui Di nuovo con un nuovissimo Ma perché cadono i buchi dell'acqua io? Madonna E abbiamo seguito il vostro consiglio E abbiamo la magia Vieni qui E tu rifiuti Andiamo E abbiamo seguito il vostro consiglio Ma perché non li metti qui i fiorellini Che ti ho regalato Ma erano già qua Ma erano già qua i fiori scusi No Non erano qua già i fiori No, non li ho vero regalati Ah, sì Non giusto Non ho parole Ma per favore Eccola qua La nostra La mia Cosa mia moglie Quindi questa Non ho capito No, che è Mia madre È la magia Eccola qua La mamma E vince E vince Giorgiangela Pronuncialo te Giorgiangela Madonna Ciao Giorgiangela La mamma Ciao Piccola Sinca Ciao Anche a quel Pirlo di tuo padre Grazie È bella A me mi sta già antipatico Cosa vuoi che ti dica Non mi ricordo perché l'ho messa qua Madonna Ciao Anche a quel Pirlo di tuo padre Non ho parole Per ora guarda Io mi sono messo in mezzo alle mansarde Mi sono messo in mezzo alle mansarde Io te invece hai letto avanti alla finestra Con i fiori Mi spiegami un po' sta cosa Perché 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 A me piace vedere i fierellini E poi non c'erano prima i fierellini E a me piace vedere le ragnatele sotto le mensole Veramente Perché devi pulire casa Questo Cos'ha con tu? È il sigillone Ma Non ci arrivo Eh vabbè ascolta minecraft È quello che è Non faccia la noio Ma Ma guarda Io c'ho qui Guarda Così Madonna Ma io sto così Come faccio a prendere la pappa? Te la lancio Hoppa Non me la lancio Ma questo non è papà È ferro Eh vabbè Io voglio una mia stanza Mamma Mamma Adesso Sigeriamo Vedi che sono Un bravo padre Ma addirittura mamma Di sopra faremo la mia stanza Faremo? Sì così viene a trovarmi Il mio minchetto del cuore No Ripeto Faremo Papà costruisce Il mio canto Sembra Ha già più senso Detta così Guarda quanti regali ti faccio oggi Quanto 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 Tutte bacche che non posso mangiare Tutte bacche che tra l'altro mi si bugano all'inventario Non le vedo Benissimo Comunque Sta venendo notte Andiamo un po' a settarci Lo spavne Andiamo un po' Diamo un mio Nel letto Diamo un mio Nel letto Che è ancora notte Bisogna chiudere le porte Che poi non lo capito bene Ma È anche noiosa Perché mi considera un pirla Perché mi ha sposato Allora Mi considera un pirla Secondo te Perché è andata alle terme Perché aveva bisogno Di prendersi un po' di relax Da te E sei un po' scuretta Anche poi Scusi Devo capire come cavolo Sei vestita Vabbè C'è anche due Pagli di Mamma mia mamma C'è giubanna No Non è proprio quello il nome Però Ok Mamma Già Già Aspetta Com'è che ci chiamano Mio mamma Va a dormire Va a giorgiangela Giorgiangela Ne vado a dormire Per piacere Buonanotte Papà La donna Come passa lenta La notte Ok Ho detto buonanotte Papà Non mi ha neanche riporto Non mi hai dato Tu lo ho detto Saccolto la notte qua Ok Andiamo a esplorare Dai su Andiamo a esplorare Muore Vuol morire Per caso Lei oggi Ma giù papà Che cosa ci farai Boh magari Non su una zona Magari per le pozioni Una zona Per gli incantesimi Mi ha tirato Un frizzone Dalla madonna Harry Potter Qui faccia Così guarda Io mi racconto Aspetta Non mi guardare Non mi guardare Non guardare Dove che mi raccontino Ok papà C'è una cotta Io guardo Versa l'alta Papà Cercami Perfetto Addio Va a scappo Un fungo Via Ma Ma perché Perché è il modo Più furbo Per scappare Papà C'è una cotta Una terra cotta Dove sono Secondo te Una terra cotta Non uso Ma ce l'ho Una cotta Devo portare Un po' La siepe qua No ma Puffe Sweet Ah mi seguo Mi seguo Eccolo Sei in mezzo Intravisto Ecco Un centro Pokemon Ma Puffe Ma dai Ma che cosa bella è Mi so spaccato L'osso del collo Però ok Anche lei si spaccato L'osso del collo Quanti colli Rimarranno Papà Ma che è Quanto Un Un insegno Mocce Che è il team rocket Tra l'altro È cattivo Appencalo Vabbè Oh cavolo Lo si avevo preso Dietro quel ferro Insegnavo Al mio fronchi Insegnavo calcio Calcio salto Ma va Calcio salto Calcio salto Che bambina monella Veramente Mi segua Andiamo dal Da qua Ho trovato il signore Che ci cura i Pokemon Io questa bambina qua Non so se la mando ancora a scuola Sinceramente Non so se la mando Eccolo qua Il signore che ci cura i Pokemon Io la ritiro La ritiro da scuola Eccolo qua Il signore che ci cura Potevamo fare qui la casa Sì ma ormai è stata fatta là Quindi sta là la casa Non rompa le scatole Sta là la casa Che cos'è questo? Un computer Un computer Io non me lo prendi A me è qui È gratis Eh Sta lei bella Perchè c'è una con te? Luci Eh Pelucci Perchè lì c'è una croce papà? Eh? Perchè c'è una croce? È il più del pronto soccorso È il più? Eh com'è Il più del pronto soccorso Ciao Perchè mi guarda E faccio un perci Perché ti dice Sei una bambina brutta Sì 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 Ma dov'è la cosa Joy? Cosa Joy? Eh non c'era C'è questo Il signore sapesse accontentare Io volevo la dottoraccia Joy No che noiosa Che noiosa E allora Vediamo Cosa? Cosa? Cosa papà? Da qui sembrava una Una guida Un amusement Sembrava una ronde Eh è una ronde Uno Ma vada a vietà Che cacchio è sto Senti un verso Te lontanate C'è? Ma senti Ma senti Andiamo, vai, andiamo Mi sto incuriosendo Ma papà è pericoloso Ma mi faccia il piacere Andiamo Andiamo, andiamo, i rumori così mi incuriosiscono Aspetta, ma là c'è qualcosa C'è lontano C'è qualcosa Ma io ho paura Ma per favore C'è un Charmander qua E' attaccato da un Machoc Poverino Ascoltate Lo so io, l'affronti lei Io? Si, lo affronti lei, so che con la sua forza E la sua bravura in combattimento Saprà sconfiggere Quel brutto Machoc Ma, ma Orogio Ma, l'amico mi ha detto che Suo padre l'ha affrontato Ha perso Sempre quell'amico lì No Conosce troppa gente Quella scuola la dovrò radere dal suolo Affronti quel bacio E' pronta il combattimento? Papà sta scappando E piglialo no Piglialo, piglialo Vai, battiro Posso vedere il combattimento aspetta L Guarda qua si fa Oddio quanto male che ti faccio guarda Mi fa male anch'io Guarda qua si fa Proviamo graffio E' Stai vedere il combattimento Ma mi sta mattando Si, mi sta mattando E' morto Ah Ce l'hai fatta Ma l'ho mattata si Adesso posso vedere il combattimento Ahahah No, ho attaccato un sentro nel fronte Ahahah Ma Molle Adesso possiamo portare Noooo Prenda Prenda quel chall�mander Prenda quel chall�mander Laаботata cioc on An 1954 Sera come si chiama Madonna che malefasto qui Come faccio a prenderlo? Effetto mi è morto Lo prenda Lo prende in braccio no? Sia Andiamo L'ha preso? Sia Andiamo Lo porti lo porti lo porti Corra Non mi mordi papà E vblo cosa? Sei in mezzo stechito Porti la partita partino parti e mi segua madonna ha un senso di orientamento di un bradipo addormentato lo stavo porta stavo portando qua chissà come mai ha portato centro pokemon davanti dai orri e 3d il coro mi aiuti la prego mi aiuti c'è un cermenter ferito aspetta a posto allora finito o no quello lì da tre ore che siamo qua ad aspettare per favore mi dica qualcosa si è pronto non è che è in microonde è pronto mi ha detto che è pronto comunque ha detto che è in scialvo è in scialvo adesso tanto pare che te lo tieni ormai è pronto qua e poi tutto lo terrai pure però mi dispiace perché cosa come si fa a cambiare pokemon papà mettiti nell'ordine giusto nell'inventario se non sbaglio eccolo qua patone se è carino guarda che è carino infatti anche la coda accesa ti ho anche aiutati visto adesso ci abbiamo un nuovo membro no che bello aree bellino è saltello aree bellino ma io date un nome a questo charmander che è stato charmander trovatello no sopravvissuto no fallout sopravvissuto a proposito me quel scente di prima mi ha spaccato il culo aspetta un attimo machoc e maccioc scrivete nei commenti che nome daremo a questo machoc no charmander ha visto charmander machoc quindi torniamo a casa facciamogli vedere facciamogli vedere alla magia facciamogli vedere alla magia a giorgiangela giorgiangela non mi ricordo mai io maledio adesso non mi ricordo chi l'ha detto ma maledio quello che ha dato staname si chiama daniele mi sa ascolta che l'alternativa era di vizza quindi va benissimo giorgiangela non mi ricordo dove è la casa ma segui me che bisogna ecco vedo già le luci guarda vedo già le luci questa pecora la pecora nel bosco la pecora nel bosco la pecora nel bosco le lille andiamo questa la devo reportare da qualche parte ma mamma non risponde mamma cosa stai facendo sta cucinando la mamma dicevo come faceva le corna comunque mamma mamma guarda abbiamo salvato questo charmander guardi di qua guardi di qua mamma 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 gliene frega un cazzo quindi che ma che ma guarda la sto guardando abbiamo salvato questo charmander da una morticetta ah si e tu ci tiene dato il mio migliore amico che tra l'altro è bugato nella finestra vabbè la c'è lei vabbè su dettagli ma non mi dite sempre ciao piccolino a me mi da sempre del pirla quindi la cosa fa molto piacere non è giusto però c'è cattiva mamma dai su mi hanno fatto passare la notte mo direi che possiamo chiudere qua ma papà che cos'è quel pokemon lì ho già visto vieni vieni ah uno zanguz che uno zanguz uno zanguz ah zanguz è un zanguz non ho fatto la buona papà ma per piacere guarda mio fronk che bello bene ragazzi spero che questo episodio vi possa essere piaciuto è un barbocce un barbocce 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 ciao ragazzi mi raccomando mi raccomando mi raccomando dite il nome di charmander nei commenti esatto dite se vi piace questa serie che ci stiamo cercando di mettere un po' di impegno e ricordatevi di dare il nome a charmander evocalo fa vedere eccolo qua cercate di dargli un bel nome eh vogliamo un bellissimo nome questo bellissimo charmander trovatello salvato da insomma salvato la battuta abbastanza è stato salvato è stata la battuta abbastanza easy cioè non ho capito ma è vero mi stava facendo la bua se usavo graffio graffia ma dove va è lì mio fronk è andato a nuotare nel suo habitat invece quindi ragazzi anche per questo episodio diteci se vi piace e continuiamo questa serie possiamo dire che è FERITA ma in teoria il tuo lo shot non ci provare neanche ma farò anche il tipo acqua io te lo shot il tuo non ci provare neanche appunto sovrò un vissuto ha poca vita quindi da buttare da shotare adesso oddio vedi tra pedofili e uomini nudi qui in questo posto è piccolo siamo la polizia siamo la polizia poca vita no 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 Grazie.